salve a tutti allora oggi stiamo facendo gli scrivimenti policromatici dell'abito di santa vittori di santa vittoria un'icona di misura scrivendo policromatico è fatto per contrasto cioè non si utilizza il colore di base aggiungendo il bianco ma si utilizza un colore che appunto vada in contrasto con il tono medio il colore appunto che sta alla base sarebbe il verde e si lavora schiarendo sempre di più intorno ai punti più luminosi della dell'abito ovviamente a seconda delle scuole cambiano gli schiarimenti possono essere più o meno geometrici come questo con questo caso si schiarisce sempre di più aggiungendo bianco poi in questo caso al giallo fino fino a ottenere appunto generalmente il bianco